C'era perfino l'esercito questa mattina ad Andria dopo che dalla centralissima piazza Catume è partito l'allarme di un borsone sospetto. Sul posto una task force di specialisti attrezzati per questo tipo di emergenze che all'interno di questa borsa nera, lo vedete, ha rinvenuto una bomba innescata pronta per esplodere. Immediata la messa in sicurezza dell'area, ma niente paura, siamo solo sul set di uno spot pubblicitario senza dubbio originale che promuove l'avvio della stagione dei saldi invernali all'ipercopo mongolfiera di Andria. Sul posto, sotto lo sguardo divertito e basito della gente, anche i RIS, l'ordigno scoppia e come svela la sua vera natura, un'esplosione di saldi. Circa 20 gli attori impegnati a rappresentare la dinamica dei fatti e i soccorsi intervenuti sul posto. Messaggio da lanciare a tutti, scritto a caratteri cubitali in questo mega manifesto srotolato in piazza. Saldi esplosivi all'interno del centro commerciale ed ecco come si presenta la mongolfiera subito dopo. I ribassi arrivano fino al 50%, si studiano i prezzi, si guardano i cartellini, ma la gente ancora restì a comprare.